Se c'è un corso telesio, via principale del centro storico, con i suoi temporari shop, i caffè buoni della città, sui cui spesso e volentieri si programmano eventi, c'è un cuore interno al centro storico di Cosenza, fatto delle viuzze che si snodano dal corso principale, che di bello e suggestivo da far vedere ha ben poco. Edifici fatiscenti e forse anche con necessità di messi in sicurezza, perdite d'acqua, rigetti fognari e cumuli di rifiuti, è quanto si palesa nei vicoli del centro storico fra i più belli d'Italia. Sì, quello di Cosenza, su cui l'amministrazione comunale sta cercando di puntare e sta tentando di riqualificare. Per ora, solo all'esterno, perché fra le vecchie storiche stradine interne, come ad esempio Largo Vergini, c'è ancora molto da fare. Largo Vergini sì, ma buona parte dei quartieri intestini vivono quell'andazzo. Pavimentazione di velte e voragini restituiscono uno scenario che non è certo quello adatto da poter proporre ad un turista. Sì, perché il centro storico di Cosenza non è solo Corso Telesio, il Duomo, non è solo il Rendano, l'Arcivescovile o il Palazzo della Provincia o il Castello Svevo. Il centro storico di Cosenza è anche piazza all'interno i carichi di bellezze architettoniche, che ad oggi hanno però lasciato il posto ad incuria, scarsa manutenzione e cumuli di spazzatura.